Anche quest'anno non vi diamo tregua. Domenica, 14 agosto, 2011. White Party. White Party. White Party. White Party. Solo per chi ce la fa. Special Sound. Gian Paolo Damiani. Vocalist. Lady Daniel. Indossa qualcosa di bianco. Parteciperà alla elezione di Miss e Mr. White Party. In palio una fantastica crociera nel Mediterraneo. Ma veramente? Ma sì, tanto non se ne accorge nessuno. Ma sì, cu. Fidati. Ma. Bosco del Solengo. 14 agosto. White Party. Start 23 e 30. White Party. Solo per chi ce la fa.